Un sit-in alla villa comunale promosso da alcuni cittadini, toccati personalmente dall'attacco hacker al sistema informatico della Asla 1. Per ritenno Censi, sindacalista CGL che ha sostenuto l'organizzazione, ci sono ancora tante cose da chiarire. I cittadini con i dati trafugati si sentono smarriti e a due mesi dall'attacco alcune prestazioni non sono ripartite. Ci sono ancora molti problemi. L'azienda, come è noto, sta inviando ai cittadini coinvolti delle comunicazioni. C'erano anche dei legali che stanno seguendo direttamente i cittadini, perché l'idea, come spiegano, è fare qualcosa insieme, anche perché è stato comunicato soltanto il livello di rischio, ma non quali dati sono stati trafugati e i rischi purtroppo sono tanti. Non è detto che questi dati vengano utilizzati, ma possono essere utilizzati in maniera clandestina nel mercato nero della rete, perché l'hackeraggio serve a questo, non solo a chiedere riscatto, ma a commercializzare i nostri dati. Quando si tratta di dati molto sensibili, non solo queste circolano, possono circolare nella rete il mio nome, il cognome, il codice fiscale, dove abito, qual è il mio numero di telefono, ma possono circolare dati circa il fatto che magari una persona ha avuto un tumore, o sostanzialmente cose che possono essere messe in commercio perché ci sia in qualche maniera una conseguenza, rispetto al rating bancario, rispetto al fatto che io possa essere o non essere assunto in base a una condizione di salute. E sono tanti, anche se molte persone non sono volute essere presenti a Zitin alla Villa, per ragioni di privacy coloro che vogliono capire in cosa consistono le conseguenze gravi legate a quanto accaduto. In tanti e tanti, come si diceva, si stanno rivolgendo ai propri legali. È possibile far nascere un percorso comune, anche per ritrovarsi insieme, magari in un comitato partecipato, hanno spiegato. Praticamente c'è stato comunicato, infatti in specie a mia moglie, sono stati rubati i dati. Ci hanno convocato all'ASL, ci hanno dato semplicemente un foglio, una cartella chiusa, dove all'interno poi c'era scritto il livello di criticità dei dati rubati. Quindi lì in fila, mentre aspettavamo gli altri cittadini di ricevere questa lettera, chi diceva che si sentiva con qualche avvocato, chi non sapeva che fare, e abbiamo pensato insomma di organizzare quante più persone possibili per cercare di fare un qualcosa insieme, per cercare anche di capire, perché poi siamo estranei a tutte queste cose, quindi sentire qualche avvocato e vedere se facciamo un'azione insieme, che cosa potremmo fare nei confronti dell'ASL stessa anche, perché penso che in teoria dovevano difendere i nostri dati. Grazie.